72 atleti da ogni parte del mondo, pronti a sfidarsi da questa sera a Modena in una tre giorni, dedicata al pattinaggio a rotelle, l'inviato Massimo Mignanelli. Emozione, tanta, libertà, soprattutto quando si è in alto, a 6 metri d'altezza, e poi comunque si è una sfida continua con se stesso. Si chiama Aggressive, è una delle quattro specialità sui pattini a rotelle che da questa sera fino a domenica daranno spettacolo a Modena. Ti dà la musica in più mentre gareggi. Ti concentra così tanto che ti estranei dall'ambiente circostante. Un'altra specialità dell'International Roller Cup è il freestyle. Si gareggia anche qui a tempo di musica, con evoluzioni, velocità e slalom. Questi ragazzi coreani sono i migliori al mondo. Quale doti bisogna avere per fare il freestyle? Sì, bisogna avere delle doti comunque di equilibrio e generalmente di capacità di agilità, però chiunque può fare il freestyle. Nulla di estremo ma tanta eleganza, abitamenti e bellezza nel pattinaggio artistico. Cristina Trani è la campionessa mondiale. Una parte di adrenalina e di coraggio ci deve essere in questo sport perché bisogna andare molto veloci e si arrivano a fare anche tre giri in aria, quindi sicuramente è una dose di coraggio, però unita alla tecnica diventa molto semplice con l'allenamento. Allora, 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 allora. Allora, 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 allora Grazie a tutti.